Ben ritrovati, ben ritrovati, si comincia una nuova settimana in questo mese di maggio, oggi è lunedì 19, vogliamo iniziare la settimana alleggerendo un po' quelli che sono i temi portanti della nostra quotidianità. Attenzione però, alleggerendola, per modo di dire, perché parliamo di arte, dunque un'arte soprattutto fatta da giovani, un'arte che non può che entusiasmarci proprio per le soluzioni nuove, gli spunti di interesse che suscita. E lo facciamo grazie al primo ospite di questa nostra mattina di lunedì che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi, si tratta di Alessandro Martinello, direttore artistico del progetto Enter. Buongiorno a lei. Buongiorno. Si fa fatica, insomma, molto spesso magari scivoleremo il lei tu, perché Alessandro è estremamente giovane, però ha già una discreta esperienza nel settore di cui ci parlerà, quello delle arti visive, se volete, in maniera molto generale. Ma parliamo anzitutto, Alessandro, di questo progetto, si chiama Enter. Noi con una grande fantasia ci siamo permessi di intitolare la puntata, questo momento dedicato al nostro primo ospite, dentro l'arte. Perfetto, beh, è l'invito che facciamo anche noi, diciamo, il progetto si chiama Enter e parte appunto dal tasto della tastiera, perché il sottotitolo di cui magari poi entriamo nel dettaglio è Intersezioni di uomini e tecnologie. E il tasto Enter è proprio un invito a entrare in questa nostra visione intersecata di uomini e tecnologie. Come funziona l'Intersezione di uomini e tecnologie? È un procedimento doloroso, piacevole, difficile? Per noi è un'indagine soprattutto. È un'indagine del progetto, è un progetto artistico, lo chiamiamo progetto, perché raggruppa insieme una proposta di spettacoli, performance e workshop, degli accadimenti che noi abbiamo chiamato inserimenti urbani, creati ad hoc da alcuni gruppi artistici padovani, e degli eventi, che noi abbiamo chiamato eventi cittadini, che coinvolgono maggiormente la città e i cittadini e il suo territorio. Alessandro, senta, è molto bello questo progetto, un progetto che, lo ricordiamo anche perché ci sta seguendo da casa, ha preso il via sabato da Piazza Cavour, con una performance di digital painting dal vivo, insomma una cosa molto originale, molto particolare, e si protrarrà fino al 28 giugno. Per cui insomma un ampio spazio. Tanti appuntamenti, tra poco vi proporemo anche in sovrimpressione il sito www.tamteatromusica.it dove potete trovare tutte le indicazioni a proposito del progetto Enter, però, come dire, una domanda provocatoria potrebbe essere iniziative di questo genere servono anche a sottolineare anche la carenza di spazi in una città che per vocazione vorrebbe essere anche un po', oltre che la capitale economica, la capitale culturale di quello che è il nord-est. Parliamo di Padova, ovviamente. Beh, certo. Il progetto Enter, che tra l'altro è realizzato grazie al sostegno della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, attraverso il bando culturalmente. Assieme a noi altri gruppi hanno vinto questo bando, proponendo delle attività artistiche appunto per riqualificare il territorio della città, per rivitalizzarlo, rivederlo con forme nuove e culturali. Per noi è stato importante pensarlo nell'area nord-est, della città. L'area che vede collocato il Teatro Maddalene, che è il teatro che la compagnia Tam Teatro Musica ha gestito per più di vent'anni, compagnia della ricerca padovana e nazionale, ed ora purtroppo è chiuso per ristrutturazione e non sappiamo quale sarà il futuro. E in questo modo noi, con la giornata che è stata sabato, abbiamo proposto una forma partecipativa per indagare il passato e il futuro, proporre un futuro di questo spazio e di tanti spazi padovani per l'arte e la cultura. Per capirci e anche per trasmettere a casa il messaggio, quali sono gli spazi in cui il progetto si esprime? Cioè avete scelto piazze, angoli nascosti, teatrini improvvisati? Sono spazi diversi, diciamo, da pubblici, privati, aperti, chiusi, cito Piazza Mazzini per l'evento finale o Corte Bezecca, una piccola corte di casi popolari, un circolo, circolo Mame, che è appena fuori dalle mura e altre piccole piazze in una zona interna, ma molto, non dico poco conosciuta, ma che aveva bisogno un po' di una riqualificazione, forse, che sono le piazzette Forza Tè, piazzetta Sartori, piazzetta Conciapelli, che è quella zona centrale del centro storico, ma comunque un po' urbana. Sì, scusaci, molto interessante perché si è parlato di riqualificazione e Alessandro Martinello ha citato come uno dei primi luoghi Piazza Mazzini, vabbè, chi ci segue non è solo di Padova, però Piazza Mazzini è una delle aree problematiche insomma della città in Lutero e Nascondo, non siamo molto distanti dalla stazione, per cui portare anche la gioia, la vitalità di questi spettacoli serve un po', non sappiamo, a rompere quella specie di cortina che si crea fra queste aree che poi diventano dei ghetti e il resto della comunità che abita in città, insomma. Certo, noi proponiamo attraverso questi eventi e questi inserimenti urbani una nuova forma d'arte partecipativa e interattiva, appunto attraverso anche installazioni artistiche curate da questi gruppi padovani che sono Società per Azioni, Spazio Clang e un'artista Claudia Fabris, porto l'esempio di uno, il primo, che sarà, non ricordo le date, ma riguardo attorno al 30 di maggio, una installazione musicale che si chiama Ghost Quartet. Verranno installati quattro leggi musicali senza suonatori all'interno di questa piazzetta. Il suonatore di questa musica, di questo spartito che non ci sarà, sarà il cittadino stesso, il passante, che si troverà a transitare lì. Semplicemente toccando questi leggi farà scaturire un suono e quindi in forma partecipativa più di una persona potrà toccare più di un leggio e comporre insieme un quartetto d'archi, diciamo, il suono, un'orchestra, orchestrare questa musica in questa piazza. No, crediamo che sia interessante anche perché molto spesso c'è un tentativo di coinvolgimento della comunità che, come dire, incontra delle resistenze. Pensiamo, non so, a quante volte ci capita di incrociare anche per strada persone che ci sottopongono dei testi, ci propongono di firmare. Cioè questo può essere anche un modo diverso per un coinvolgimento, magari sarà anche, come dire, divertente osservare anche la curiosità delle persone, magari chi si avvicinerà, magari non comprenderà subito la cosa, chi magari si ritrarrà. Magari ci sarà anche la soddisfazione di qualcuno che si metterà a mettere a giocare. E diciamo in atto quello che voi vi prefiggete. È anche un progetto, chiamiamolo coraggioso da questo punto di vista, perché insomma non è sempre facile. No, sai, pensiamo a questa maledetta, perdonateci il termine, società della non comunicazione, che vorrebbe un po' ritrovare il gusto proprio di riappropriarsi del senso di comunità come esisteva una volta. La sfida che ci lanciamo non è quella di fare semplicemente un festival della tecnologia, ma appunto provare a portare quest'ottica partecipativa e interattiva delle nuove, che le nuove tecnologie hanno inserito e hanno permesso alle persone. Provare a creare un'intersezione, come dice proprio il sottotitolo, tra l'umano e il tecnologico. Bellissimo. Allora, se non abbiamo capito male, il discorso del Ghost Quartet, cioè del Quartetto Fantasma, questi spartiti su cui si potrà suonare, quando avverrà questo? Scusate, se non trovo la data, ho il programma sottomano. Ci mancherebbe, così ne approfittiamo anche per parlare. 30 maggio, dalle 15.30 alle 18.30 ai Giardini dell'Arena e il 31 maggio dalle 15.30 alle 18.30 appunto in Piazzetta Sartori, una di queste piazzette molto interessante, per cui anche una valorizzazione di tutti questi spazi. Ecco, ad Alessandro Martinello chiediamo se magari c'è qualche momento di cui vuole parlare, su cui preferisce soffermarsi del programma di Enter. Il programma è molto ampio, appunto. Mi piacerebbe parlare più di queste, per non screditare tutto il resto, c'è una programmazione molto bella di spettacoli, di ospiti che noi abbiamo invitato a portare il loro lavoro, perché secondo noi aveva un'attinenza forte con queste tematiche. Ci sono ospiti internazionali, una compagnia, Kiko Matevic, che è croato-italiana ma con sede in Francia, un altro artista, Diego Roveroni, che in realtà è un artista milanese ma è viva lavoro in Svizzera. Però vorrei sottolineare più l'opera dei gruppi padovani che appunto propongono questi inserimenti urbani. Un altro inserimento urbano è l'artista Claudia Fabris con la cameriera di poesia, che offrirà, in cuffia, servirà in cuffia delle poesie. Quindi attraverso questo strumento tecnologico lei come si offre? Attraverso un cameriere offre del cibo per curare il corpo, lei offrirà delle parole per curare lo spirito, per curare l'anima, diciamo. Cioè praticamente chi si troverà a transitare da quelle parti? Potrà prendere queste cuffie, vivere lo spazio come vuole e intanto ascoltare queste poesie. Può ordinarle proprio alla cameriera, attraverso un menu, può scegliere varie poesie e ordinarle e ascoltarle nello spazio che più desidera. Non è però una battuta da cumenda, ma diversamente che da un cameriere non verrà richiesto alla fine il pagamento di un conto. No, perché tutti gli eventi sono a ingresso libero, ci teniamo a dirlo e vogliamo farlo proprio per questo, per cercare di portare questa nostra sfida dell'umano col tecnologico il più possibile a tutti. No, è bellissimo, perché forse è anche una riflessione sui tempi che viviamo. Con Alessandro prima di andare in onda si ricordava un film che non ha avuto forse un grande successo di pubblico, un po' difficile, che è apparso anche nelle nostre salle del nord-est nelle settimane scorse che si chiamava Air, cioè lei ed era il rapporto tra questa persona e un pc, un computer, no? E forse... E arrivava fino al punto di innamorarsi del proprio computer. Mamma mia, insomma. Ecco, in questo caso, secondo Alessandro Martinello, vabbè, il cinema tante volte porta ad un paradosso, una situazione di esasperazione, ma cioè si sta instaurando talmente un rapporto tra uomo e tecnologia che può addirittura degenerare in quasi amore perché diventa la dimensione per tante persone. Sì, le modalità sono le più disparate. La tecnologia, come ho detto, le varie tecnologie hanno trasformato il nostro modo di vivere. Sta a noi trovare la giusta modalità per viverle e per utilizzarle. Cioè non ci devono condizionare al punto in cui avevano condizionato il protagonista del film, insomma. Dicevo appunto, portavo come esempio un'altra volta, noi le tecnologie interessano appunto come strumento, come evoluzione di un strumento. La stessa tecnologia cellulare può essere paragonata alla tecnologia forchetta. Prima dell'invenzione della forchetta si mangiava con le mani. Tuttora però alcune culture lo ritengono sacro e non è detto che mangiare con le mani, mangiare con la forchetta sia per forza qualcosa di migliore. Nello stesso modo le nuove tecnologie, i cellulari o quant'altro, sta a noi trovare il giusto modo. No, anche perché, a nostro modesto parere, il progetto Enter, diversamente sempre riferiti a questo film era in cui si sottolineava anche una condizione di solitudine del protagonista, qui invece è un modo per che la comunità si riappropi del suo senso originario. Ci interessa, tra le modalità che le nuove tecnologie offrono, ci interessa la partecipazione e l'interattività, ovvero che siano le persone stesse non solo spettatori di uno spettacolo di teatro o visitatori di una mostra d'arte, ma siano parte attiva, parte partecipativa dell'opera d'arte e dell'opera teatrale, proponendo contenuti o proponendo azioni proprio. Certo. Sì, ma è una fruizione anche, come dire, non particolarmente impegnativa, perché voi, vabbè, liberamente chiedete alle persone, non è che le prendiate per strada e le costringiate, però insomma è un invito a vivere una dimensione partecipativa che forse abbiamo un pochino dimenticato, cioè siamo tanti anonimi, insomma tante entità anonime che si confondono nella città, in questo modo magari è un modo anche per riconoscersi. Diciamo che la tecnologia da una parte ha aiutato spesso a far incontrare persone distanti, ma dall'altra parte ha allontanato forse persone vicine. Però ci sembra anche che entering in qualche modo equivalga a community, ma nel vero senso della parola, perché qualcuno sta cominciando a contestare la community online perché dice che è un incontro di tante solitudini, qui può essere invece un modo perché queste solitudini, come dire, si sciolgano nel senso anche partecipativo di stare con gli altri. Noi lo speriamo, lo speriamo perché appunto che torni forte anche un'interazione tra uomini. Un esempio, giusto per parlare di un'altra attività, la festa, l'abbiamo anche chiamata, l'evento conclusivo in Piazza Mazzini, sarà una proposta di videogiochi che vengono portati in piazza, tolti dalla solitudine delle camere o dalla solitudine delle case spesso. Comunque c'è magari il gioco online che ti permette di giocare con altri utenti, ma noi lo riportiamo a una dimensione di incontro come è nato il gioco, lo riportiamo in piazza, però sono giochi moderni, sono videogiochi da giocare insieme con nuove forme, nuovi strumenti, ma collettivi. E da un punto di vista anagrafico potremmo dire che è assolutamente trasversale, si va dai 5 agli 85. Sì, noi siamo giovani e ci interessa portare questa attività ai giovani, ma non solo, anche perché il giovane è un po' l'età di mezzo, per cui il giovane è lo studente, diciamo, ma è anche il genitore. Alessandro Martinello fa parte di Tanteatro Musica, è il direttore artistico di questo progetto che si chiama Enter, ma come nasce la passione di Alessandro Martinello per il teatro e per le forme di arti visiva? Io arrivo da degli studi artistici, diciamo, e poi all'università ho visto questa passione per la tecnologia, per il multimediale, forse perché non sono mai riuscito a trovare all'interno della mia passione artistica un ambito predefinito. Mi piaceva l'arte visiva, ma mi piaceva anche la scultura, mi piaceva poi incontrato il teatro, per cui mi è piaciuto mettermi in gioco come corpo e come persona, e nel teatro ho visto un po' questa possibilità di conglobare diverse arti. E Alessandro Martinello sarà presente a tutti gli appuntamenti? No, perché è un coordinatore. Cercherò di essere presente a tutti, perché li ho proposti, perché ci tengo e perché voglio vederli. Poi può servire anche una guida, magari arriva la persona, se vogliamo, di una certa età, senti da quale pulpite, insomma, magari un po' smarrita, che dice, ma cosa sta succedendo? Insomma, ci può essere anche un'indicazione per questi tipi di situazioni che magari per persone di una certa età risultano, insomma, già per un giovane e può essere attrattiva dal punto di vista della curiosità. Magari per la persona di una certa età c'è sempre questa perplessità, questa diffidenza verso tutto quello che è. Sì, forse è una differenza. La parola tecnologia, spesso, per chi non ne ha modo di utilizzo, sembra una cosa spaventosa. In realtà, come dicevo, noi, come tante altre musica, proponiamo all'interno del progetto ad esempio uno spettacolo che è pensato a partire dai due anni. Cioè, questo spettacolo noi lo portiamo negli asili nido, lo facciamo proprio per i piccolissimi, ma anche per gli adulti. Ed è un lavoro, come diceva prima, sulla pittura digitale. Che è questa tecnica con la quale noi dipingiamo dal vivo attraverso un videoproiettore, coloriamo lo spazio, riempiamo di forme e raccontiamo anche il nostro teatro, che non è un teatro di parola, ma è un teatro di visione. E sta avendo un bel riscontro anche verso persone totalmente distanti da questo linguaggio che quando lo incontrano ne vengono meravigliati, ne sono meravigliati. Allora, a questo punto, con le parole di Alessandro Martinello potremmo dire enter, che potrebbe suonare anche come una specie non di imperativo, ma di invito, entrate, entrate in questo mondo della tecnologia anche per chi appunto può avere questa diffidenza, per cui è anche un titolo tante volte che si può interpretare e può risultare... Non è così complicato, è come premere il tasto. È come premere il tasto, sì, in effetti. Allora, ricordiamo che in Italia quando si parla di cultura si parla sempre di tagli, di mancanza di fondi. Fortunatamente c'è stato questo sostegno importante di una realtà strepitosa come la Fondazione Cassa degli Spani di Padovero Vigo che ha avviato anche questo progetto culturale e che vi ha aiutato, perché immaginiamo che sia anche un impegno economico importante. Sì, il grande numero di attività che abbiamo voluto svolgere ci ha portato a un piccolo sacrificio che noi comunque facciamo per la volontà di questo, il fatto di tenere tutti gli eventi a ingresso libero anche. Abbiamo avuto l'importante sostegno della Fondazione. Noi, con le nostre forze, cerchiamo di portare tutto a compimento. Ma il nucleo base quante persone comprende? Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro... L'abbiamo chiamato... Uso le parole formali. No, no, sono più giusti. Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro giovane che appunto fa parte della compagnia. Siamo giovani formati all'interno di questa compagnia che è stata fondata in realtà nel 1980 da Michele Sambin, Pierangelo Allegro e Laurent Dupont, tre artisti a livello nazionale. E all'interno della compagnia si sono formate anche altre generazioni artistiche e l'ultima è questa che ha voluto proporre questo progetto. Diciamo che il gruppo di lavoro forte è composto da me, da Paola Valente, che ringrazio, Claudia Fabris e Luca Scappellato, il nostro grafico fantastico Riccardo Pirotto che ha creato tutta la veste che ci mostra all'esterno appunto. E molti collaboratori che ci hanno aiutato, i partner di progetto che ho già citato, che sono quelli con cui abbiamo proprio strutturato le attività, che sono Spazio Clang, Società per Azioni, Play in the Game e Wikimedia Italia. e collaborazioni nel territorio che ci hanno appunto molto aiutato per riuscire a sviluppare nelle varie collocazioni urbane, gli spazi li cito perché ci tengo, Circolo Mame, Super Flash Store di Padova, Progetto Giovani di Padova, il Comitato Mura, l'ASU, che è l'Associazione degli Studenti, e il Media Partner, l'Urban Experience, che ci aiuta nella diffusione. Noi ringraziamo Alessandro Martinello, direttore artistico del Progetto Enter. Ricordiamo un progetto che ha preso il via sabato scorso, 17 maggio, e che si protrarrà fino al 28 giugno prossimo. Per cui, insomma, c'è un ampio spazio a disposizione. Per qualunque tipo di informazione potete sempre informarvi nel sito www.tamteatromusica.it www.tamteatromusica.it Ringraziamo dunque il nostro gentile e gradito ospite al quale auguriamo buon lavoro in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Grazie ad Alessandro Martinello, direttore artistico del Progetto Enter. Rimanete con noi, ci rivediamo tra qualche istante, giusto il tempo di alcuni suggerimenti commerciali. A tra poco. Grazie a tutti.